Gente di triplo gioco, ma mi devo spaventare con quest'anello, no? Eh, pesa due atti e mezzo, quindi nel caso mi facessi girare particolarmente le scatole, sì. Quindi dicevamo, farai il film, uscirai col film di Martone e quello di Nina Di Maio. Sì. E cosa farai nei tuoi film? La sorella di Margherita Vui, quello di Nina Di Maio, nonché futura moglie di Fabio Volo. Ah, come è andata sul set? Bene, è stata divertente. Un aneddoto? Eh, che ovviamente Fabio ha l'ideosincrasia per il matrimonio, quindi il giorno del matrimonio è scappato, doveva andare a registrare altre cose al giorno. Perché volevi farvi una proposta? No, io già sposata sono, già sposata sono. E quello fai tutti i pazzi per amore? Ah no, perché che c'entra? Dio. E invece quello dicevi di Nina Di Maio? Martone faccio Cristina Di Belgiagioso, che è una delle poche donne del risorciamento italiano. È stato molto bello, interessante lavorare con me. Ma come invece amante delle serie americane, qual è la tua carina? Sai che non ne guardo... ma devo dirti adesso mi è piaciuta, perché io ho guardicchiato così per caso i lifestyle. Mi è piaciuta. Piaciuta. Altre? Non sono una grande scraps, perché comunque si aveva con l'originalità, dell'ironia, del modulo narrativo differente, però serie proprio classiche non sono una grande spettatrice. Per quanto otterrai questo look? Perché non crescono, il tempo guarda, decideranno i miei capelli. In un mese già si sono allungati tanto, quindi alla fine... Grazie. Grazie.